Ciao, a proposito di bossa nova, la bossa nova in verità è molto semplice, sembra difficile, sembra da fuori tempo, ma non è, è molto metrica, diciamo prima i bassi che devono essere, se contiamo un, due, tre, quattro, un, due, tre, quattro, perché il basso funziona come praticamente tutti i ritmi binari, dove pensiamo in quattro quarti, il basso cadrà sull'uno e su tre, su primo e su terzo quarto, se pensiamo in binario, un, due, un, due, il basso cadrà sull'uno e su due, se facciamo tutti gli accordi che sono, sol diesis minori, sol seti, fa diesis minori, fa seti, allora prima organizziamo la parte, gli estremi, melodia basso, c'è la seconda parte che è un po' più complicata, la seconda parte andiamo alla minore, re, seti e sol, sol delta, dopo sol minore, dopo do seti e fa delta e abbiamo un fa diesis semi diminuito, in verità con la quinta bemole e seti, e si senti, dobbiamo inserire i bassi anche qua, se dobbiamo, adesso dobbiamo inserire nel brano la parte in mezzo tra il basso e tra la melodia, se dobbiamo, adesso dobbiamo inserire nel brano la parte in mezzo tra il basso e tra la melodia, tutto diventa più pieno, l'armonia diventa più rita. no 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 ok e così si ripete, vediamo la seconda parte quanto più semplici abbiamo dall'approccio verso la musica, se capiamo le regole, le cose diventano molto più interessanti, e principalmente capire questi estremi, è la prima cosa che dobbiamo cercare di organizzare, il rapporto melodia e basso, melodia e basso, torneremo più avanti con altri video su tanti argomenti che riguardano la musica, ok, ciao!